odo che brutto ammazzo io come sei riuscito a fuggire tu non ce la conti giusta però se racconta la storia non è un buon Bagabale non è detto chi ci ha attaccato vai avanti si dice voglio vedere cosa cosa da dirci chi ci ha attaccato quale è il topiano portulella il solito buco di culo delle principianti non potremmo convincerti la prima volta ma le cose sono diverse magari erano uno o due altri che non avessi arrivato quando siamo attaccati è difficile dire tua figlia sembri un parroco sembri c'è mia figlia ah adottiva la l'eskanzi meticcia che non me l'ha mai data soprattutto li troveremo che fortuna andiamo di capire da che parte dobbiamo andare 200 metri e poi gira a destra alla rotonda prendi la terza a destra a destra e poi il resto di Ebb si è tornato a noi. Io andrò per Raven's Rill, allora. La città è a suddellino. Cross the bridge e turn right at the crossroads. Ehm, chi è Boyard? Ehm, chi è Boyard? Ehm, livello più! Ehm, livello più! Ehm, bello, caro Senpa. Hai guadagnato una sfera di energia. Le sfere di energia si sbloccano completando punti chiave della storia. Puoi riempire le sferi usando le abilità speciali. Tra l'attacchio subendo. Puoi usare una sfera di energia per sperare attacchi più potenti. Per potenziare il tuo attacco ti hai imprimuto maiuscolo di sinistra per aumentare su sinistro del mouse. Ehm... Lo spazio? O i numerini? Eh, i numerini attivano l'abilità, sì, ma ce l'ho già la 1. La Q? La Q cambia da una mano a due mani. Maiuscolo di sinistra potenze attacco. Sì, infatti, è quello che fa. Non ho capito cosa ti mancano. Ho attivato... Io ho tre slot qua sopra, quanto pare, che sarebbero, immagino, uno, due, tre. In questo momento ho attivato un'abilità in più che... credo sia... funzionante. Però non... mi manca la possibilità di attivarla sta cassa di cose. Tu ti chiami Reinhard? Sì. Ok, vai nel tuo coso dell'abilità. Sì. Vedi sotto che c'è... dovresti vedere Lucas. Ecco lì, sì. Vedi che c'è il primo, percorsa con scudo, il secondo, assalto dinamico, che sono quelli che ho a disposizione col tasto 1, il terzo che è quello che ho abilitato adesso. non c'è da nessuna parte. E io quello lo attivo con il trigger sinistro. E quindi penso che sia il... Eh, a questo punto vado a vedere i tasti. Lo spazio, credo che sia. Quello spazio? Ah, sì! Quindi ne ho premuto e poi devi comunque attivarlo con il tasto sinistro del mouse, credo. Non posso ancora attivarlo... Forse perché non ti serve un momento. perché forse si sta caricando la barretta. Non vorrei che fosse per quello. Sentiero del Pellegrino. Io salverei. Non lo so te. Se c'è la possibilità. Ma che strafiume? Eh, vedi la piuma... la piuma d'oca? Qua, qua, qua. Ah, c'è gente. Non perderti. Penso io, ci penso io. Li massacro tutti. Che strage. Strage, strage. Ah, ok, adesso ci sono. Sì, in pratica si deve caricare premendo... E' una cozzaglia di comandi praticamente perché poi tra l'altro con lo spazio fa il salto, la schivata. Ah, ottimo. E' una cozzaglia di... Eh, è quello che ti dicevo che con un joypad è più... Si, sono d'accordo. Massacro questa abilità, eh. Veramente. Via. Grande. Cos'è? C'è un po' di roba, c'è un po' di roba qua. Ok. Bene. Ma tu ti fotti, scusami, eh. Certo. Non è vero. Non siamo in comunione dei beni. Chi lo sa? Non credo. Sembra che dove nel mercenario le scansi. La sua carne è stata lacerata, bla bla bla, vabbè. Sato! Sato! Ma dove... Chi sta ricolpendo? Eh, c'era dell'aria che mi dava fastidio, mi faceva brutto. Eh, l'aria... Mi faceva brutto dell'aria. Eh, eh, eh. Fermo lì, fermo lì. Fermo lì. Segreto, segreto, segreto. Calzoni desti. Secreto. Tra l'altro 4,99 questo qua. E l'hai fottuto. No, è tuo. Eccoli qua. E che vedo il valore, vale 499 questo, non vale mica pizza e fichi. E calzoni di prestigio. Tra l'altro, sbaglio o sono sempre stito uguale? Sì, forse sì. Minchia, sta telecamera che si muove io mi perdo in continuazione. C'ho problema con la telecamera, stasera, in generale. Eh, ma devi... Oh, guarda. Guarda qui. Basta guardare la minimappa. Eh, capito. Però vaffanculo. Improvvisamente cominciavo a trovare Roma per me. E la cosa mi state rimbalmite sui coglioni. Eh beh, anche ora, scusami eh. Ven da la sinistra. E qua. Benvenuti a Rivolo del Corvo. E questo chi è? Bad idea coming here. Ah, il portinaio. Ah, la petinus. Basili. No, non ho visto. Mh. 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 Ma non parleranno a quelli come te? Perché no? Perché sei spettinato. Eh, ma non si fanno mai cazzo di loro però. Vabbè, vi chiediamo se posso passare. Arriviamo al dunque. Non ho parole per te. Ah. Questa valfrina. Ok. Se allora la metti così. Hallooo. Abitante. Puttanella. Salva. Oh, una asciura con un putto escavativo. Perché non posso parlarci io? Perché forse posso parlarci solo io? Che brutta. Hai visto Lazar? Basili. Probabilmente è morto. Cos'è successo? Ottimo. La mia moglie dell'unico morto. Che è l'unico furbo che è. Unico furbo, sì. Posso aiutarti? Ci pensiamo noi. Uff. Stai in una botte di sterzo. Uff. Senpavor ha avviato Dungeon Siege 3 Bene Mi metto fuori il messaggio Ottimo Dai, lo farò Via, via, diretti La questione morale ci porta esperienza Sì, sì, sì Un fazzoletto sulla bocca Chi è che porta un fazzoletto sulla bocca? Si è l'alito pesante Giusto Inizia la missione ad ogni momento Selezionando il diario delle missioni Se avessi un Joyped Con la crocettina direzionale Potresti vedere le missioni In un Zik Ok, il tasto azione è questo qua sopra L'RB Tu che Joyped hai? Ho quello del Apple 3 Ah, cacchio Beh, ma si comporta bene Eh, ma non abbiamo i tasti uguali No, non abbiamo i tasti uguali Sì Sì Shura? Niente Eh, eh Mio, 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 mio Mi sa che l'ho preso io No Qualsiasi cosa fossi Soldi E ce ne erano per me? Niente, niente Non ci serve Prova a cliccare sul La croce direzionale in cima Oh Vedi i pallini? Sì Ok, allora Allora, se lo faccio io Lo vedo solo io Se lo fai tu Lo vedi solo tu Giù Vuoi andare a vedere cosa c'è su? Volevo sicuramente Luttare Per l'ultabile Che ci sarà qua intorno C'è un carro Con il fatto che qua non posso sparare ma... Spadate, tirare spadate Non so i tasti Ancora No Caterina Caterina Non l'avrei mai detto Ok Ok Perché mi stai aiutando? Spiegami la trappola La scosciata È l'esca Eh, ci saremmo cascati con tutti i pantaloni Eh, l'esca alle... No, senza i pantaloni Senza i pantaloni, giustamente Lei è l'esca alle scanzi Eh, sì Via Allora, se è come te Curro Dove è la grotta? A ovest Cerca il sentiero Che conduce a nord Cosa vuole a chi? La sorella? C'è È per sapere se è meglio fare la roccia Che tettazza Perfetto Sì, ormai Un negoziante Oh, compre e vendi Quanti soldi ho? Quanti soldi ho? Quanti soldi ho? Sai che non so quanti soldi ho? Ah, sai che forse l'inventario è comune? Tu quanti soldi hai? Ah, quello lì 756 Non è comune Quindi bisogna decidere di comune accordo che cosa eventualmente comprare e perché? Io sto vendendo tutto Infatti vedo, hai venduto tutto Scarco Beh, se è roba che non serve Scarco lente L'ho comprato Tu quanti soldi hai? 164 Ups Che cazzo E niente, io sto bene così Adesso lo sappiamo però Grazie Eh, l'esperienza Cosa fa l'esperienza? Le scarpe violente, mi stenderemo Le sole consumate Cosa fa l'esperienza? Questa cosa vuoi? Cosa vedi? I ninnoli Quindi invita l'insulto a questo gioco Perché c'è un sistema di dialoghi per il quale uno può dire Io vorrei chiedere quello e tu puoi fare il contrario E anche finalmente in un negozio Quindi inizia a litigare su cosa fare No, oppure il primo che scorge quello che gli interessa Clic Compra e via Praticamente E te comunque puoi spendere ben 164 monete E non c'è niente da 164 monete E' un cazzo di marocchino sto qua Non credo che funzioni poi tanto bene Oh, guarda, guarda, c'è qualcun altro che non è al punto Che ha bisogno di noi, vai E' una missione E' una missione la butto lì se posso aiutarti facciamola veloce una mosca e una latrina bene, lo farò ma dove abbiamo fatto prima il cadavere dove abbiamo trovato il cadavere? il cadavere delle scansi mi rimane un laghetto può essere però secondo me risolverei così la butto lì va bene e secondo me, ascolta un cretino secondo me questa missione la farei più tardi eventualmente al momento credo che potrebbe essere io a questo punto saluterei ah beh, concordo perché abbiamo fatto un sacco abbiamo introdotto il gioco e sicuramente è il momento di salutare i nostri compagneros che ci stanno sapientemente guardando chissà se a loro è piaciuto da John Siege 3 però a me non mi dispiace poi troppo ma è un tipo di gioco nuovo per me fatto così mi manca quindi quindi vuoi dire che ci saranno altri video? può darsi perché non è per niente male alla fine poi magari migliora anche una volta ci sono due pischelli un tank è un mago pischelloso di secondo livello lei ha appena attaccato il joypad quindi non sai ancora bene questi sono i tassi e si vede perché stai menando tendenti a destra e sinistra di brutto perché non ho ancora capito niente neanche io perché ho appena consumato del focus per niente per un cazzo va bene caro Sempa al prossimo appuntamento qui nell'Elanda di Erot che noi siamo gli unici o due discendenti della legione e come al solito tocchere a noi combinare qualcosa sono sempre dispiaciuto caro Sempa che noi scegliamo giochi senza poco amico veramente brutta cosa sono veramente dispiaciuto di ciò ma d'altra parte cosa vuoi farci? tanto è lo sanno e lo fanno apposta da toglierlo perché poi arriviamo noi e facciamo i firlotti è molto probabile è molto probabile va bene se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao